Musica Musica io ora l'uno sono in bilan No, Venere c'era il bilancio che mi hanno detto che è una roba molto femminile, la bilancia è il segno dell'eleganza, della femminilità, quindi ho un disegno, io sono maschiaccia da morire, però c'ho una roba di fortuna che mi, se no che ti tira. Questi titoli sono una cosa che non si può camminare. La mia fortuna è stata avere le gambe storte, tu pensa nella vita che cosa vuol dire, che a me mi hanno sempre preso in giro tutti, che quando ero piccola mi massacravano queste gambe magre, storte, così, Christian, Karl Gerfin, che ovviamente gli stilisti invece sono pazzi, delle gambe secche, anche un po' storte, hanno detto di sì, solo dopo aver visto le gambe, ho messo la mia rivista, sono buoni che le pignavano nel culo tutti, scusate, tu fai la cernita di tutto quello che dico. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Ciao a tutti, grazie, 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 grazie. Ciao a tutti, grazie a tutti. Ciao a tutti.